buongiorno che bella giornata scusa tesoro il mio trucco mi ha rovinato la mattinata buongiorno tesoro facciamo un selfie mattutino stiamo benissimo wow l'ho persino filmato lo pubblico subito guarda abbiamo un sacco di visualizzazioni ti sei svegliato famoso il mio braccio è così forte guarda questi muscoli d'acciaio brenda sei debole provo a sollevare questo peso per uomini veri facile ne prendo un paio lascia che ti aiuti povero debole posso respirare di nuovo ma i dilettanti ragazzo sei così forte vuoi essere il testimonial del nostro brand firma il contratto non male ci sto chi era quello il mio capo sono il nuovo testimonial del suo brand sei il mio penny fortunato baby la colazione è pronta oh grazie tesoro cosa la mia colazione anthony sei terribile scusa tesoro buongiorno baby che fortuna ecco la tua colazione tesoro wow un corso d'arte tesoro lascia che ti faccia un ritratto ecco qua mi metto in posa disegnami come una delle tue ragazze francesi anthony non muoverti sarà un capolavoro beh come va sbrigati sono stanca fatto piccola questo è in assoluto il tuo miglior ritratto cosa non sei monè è patetico dammi il tuo capolavoro tienilo per te ma piccola che strana coppia facciamo arte non riesco ad aprirlo è secco ops scusa dele forse se disegno le zampe sembrerà un insetto è così concettuale questa è l'ultima ondata dell'arte moderna devo comprare questo dipinto per la mia galleria lo chiamerò scarabocchio rosso un gratta e vinci svelto anthony gratta vediamo sette un altro sette oh wow siamo così vicini alla vittoria sarebbe fantastico ehi dov'è il biglietto è stato spazzato via anthony oh sei così sfortunato wow cos'è un gratta e vinci è rimasto un numero vediamo wow tre sette abbiamo vinto diecimila dollari che fortuna si il mio dolce preferito adoro la crema pasticcera oh no sono tutto sporco rimarrà la macchia anthony stavo cercando te volevo dirti che stai andando alla grande che riceverai presto una promozione oh no che camicia sporca renditi presentabile prima non mi piacciono i disordinati fantastico è finalmente ora della pausa pranzo posso mangiare ehi dov'è il mio cibo forse in cucina no Neil cosa c'è che non va il mio pranzo è sparito dovrò soffrire la fame no non lo farai ecco cento dollari comprati uno spuntino wow grazie capo non male oh ecco il mio cestino del pranzo che fortuna ho sempre voluto mangiare in questo ristorante ciao cosa posso fare per voi prendo questo e quello e anche questo possiamo ordinare anche noi l'antipasto del giorno per favore ok ci sta mettendo un'eternità o è per noi no è pronto? sediti cameriera ehi abbiamo ordinato un secolo fa ehi guarda hanno già ricevuto il loro ordine e noi quando avremo il nostro cibo basta sono stufa andiamo da mcdonald's sarà più veloce oh c'è un tavolo libero sediti ecco il vostro ordine aspetta non l'avete ordinato voi lascialo lo prendiamo grazie per il servizio veloce grazie per il servizio veloce ti amo piccolo e io di più tesoro fermi dovete indossare le mascherine e il distanziamento fermi indossate le mascherine vero? ottimo lavoro grazie per aver fatto la vostra parte se ne è andato? adesso possiamo baciarci il romanticismo tesoro oggi è un giorno molto speciale oh il cibo guarda chi è? no nessuno questo è per te mi stai dando un hamburger? oh è così dolce adoro gli hamburger tesoro l'anello ti sta soffocando pronto 9-1-1 baby chiudi gli occhi ho una sorpresa per te aprili oh un anello certo che ti sposo sei così dolce abbiamo comprato tutto andiamo a pagare siamo arrivati prima va bene andate ragazzi sono 50 dollari i prossimi i prossimi abbiamo fatto jackpot ehi non restare lì prendi quello che c'è sul manichino sì mi piace anche questa andiamo intendevo i gioielli non mi sta bene questo colore oh no ora sono nei guai voglio questo e quello e questo comprerò tutti questi wow questo è un grosso taglio non posso darti il resto non preoccuparti tieni il resto grazie che fortuna cosa? lo stanno passando di nuovo oddio no non mi piace pollice in giù ops il nostro computer non ce l'ha fatta avresti dovuto mettere un pollice in su oh guarda il nostro video siamo popolari tutti dovrebbero premere like wow il nostro computer ecco cosa succede quando premi like sui video di wu wu ti sono piaciute le nostre coppie fortunate e sfortunate allora commenta qui sotto e dici se tendi ad essere fortunato o sfortunato e voi ragazzi iscrivetevi al nostro canale mettete like a questo video e fate click sulla campanella non perdetevi nessun nuovo esilarante video di wu wu